In memoria di Primo Nebbiolo. Senza particolari contraccolpi sul piano ambientale la sconfitta in Turchia per il Milan. Milan che perde Maldini qui in tribuna e che ritrova Costa Curta e Leonardo che erano squalificati contro il Galatasaray. La novità di Zaccheroni oggi è Orlandini schierato sulla sinistra. All'esordio Materazzi, 189esima panchina in Serie A, schiera un 4-4-2 con Bettarini sulla linea dei centrocampisti e Casazza tra i panzi. Inizia bene, motivato il Milan con Shevchenko, il sinistro fuori di poco. Helweg al cross tra qualche istante sulla destra. Preciso, Birov da solo manda fuori così. Al ventesimo UEA rileva l'infortunato Leonardo e per il Milan è ancora tridente. Iachini, 35 anni, lotta da par su sul liberiano. Venticinquesimo Orlandini, calcio di punizione, esce Casazza, Helweg. Di prima anche UEA, alto. Si ferma il Milan, sale il Venezia, mischia in aria davanti ad Abbiati e palla toccata dolcemente da Brioschi. Poi la velocità di Valtolina ma non la precisione. E quindi ancora il Venezia, maniero su Abbiati, pallonetto di Valtolina fuori bersaglio. Con il montaggio di Fabio Ballini siamo nella ripresa. Ottavo minuto, punizione di Orlandini, torre di Birov. UEA non arriva per pochissimo. Al decimo angolo di Orlandini esce Casazza e travolge un paio di giocatori. Shevchenko testa, UEA testa, piattone di Birov. Milan in vantaggio, quarto gol in campionato per il giocatore tedesco. Proteste dei giocatori del Venezia, forse per questi gomiti allargati di UEA. Nello stacco su Brioschi. Strada spianata per il Milan ma Shevchenko debolmente tira sul Casazza. Sedicesimo, contropiede del Venezia, Valtolina tra i migliori, maniero, gira così sul foglio. Al ventesimo esce Birov ed entra Boban. Zaccheroni punta sul contropiede e gli riesce. Ventunesimo, Bisticciano, Bilica e Luppi. Shevchenko tocca per UEA, ha girato così Casazza. 2-0 per il Milan, quarto gol del liberiano. Ma forse c'è una posizione di fuorigioco dello stesso UEA. Poi Borgobello, Nanami, Berg per Brioschi, Petkovic e Iachini. Punizione del giapponese, maniero sulla gamba alta di Costa Curte. Palla che schizza sul braccio del milanista. Susseguente contropiede, Shevchenko da solo, disorienta la difesa. Arriva a contatto con Casazza che lo tocca, lo sbilancia. Per Rosetti è calcio di rigore ed espulsione del portiere del Venezia. E tra i pali va Fabio Bilica, brasiliano. Shevchenko, la rincorsa e la deviazione di Bilica che poi si supera anche su questo pallonetto di Boban. Ed è sfortunato sulla botta ravvicinata di Orlandini. Gol del 3-0, primo gol in rosso-nero. Rivediamo ancora la prudenza di Bilica che al 47esimo si ripete su Boban. Insomma, Bilica certamente meglio come estremo difensore oggi. Milan che mantiene la propria imbattibilità in campionato. Non contava come dopo la batosta in Turpia.